Storie d'amore, guerre, regimi dittatoriali e fughe dalla propria terra. Questo è ciò che vuole raccontare lo spettacolo teatrale My Name is 1-3-3, scritto e ideato da Michele Celeste che sarà portato in scena da Officina Teatro e dagli ospiti del Centro Accoglienza il prossimo 30 luglio alle ore 21 in Piazza Giovanni XXIII a San Cataldo. Una performance in cui culture diverse si confrontano e si fondono in un solo ed unico linguaggio, quello dell'arte, della pace e dell'amore. Uno spettacolo che vuole restituire l'identità e la dignità agli stranieri spesso identificati con un numero, un modo per esprimere la loro visione del mondo e il loro punto di vista aprendosi verso il paese che li ospita, affinché possano essere conosciuti per quello che realmente sono, uomini, non fantasmi, ospiti di un paese che non li conosce. L'idea nasce casualmente da un incontro con uno di loro e da una discussione che abbiamo avuto circa la loro sostituzione, per motivi chiaramente organizzativi in ambito dei centri di accoglienza in genere, della sostituzione del loro nome con quella di un numero identificativo. Quindi da qui è venuta proprio l'idea del titolo dello spettacolo, My Name is 1-3-3, il mio nome è 1-3-3. Questa cosa mi ha molto colpito perché notavo nei loro occhi, nel loro modo di parlare, questa non accettazione di questi numeri identificativi in quanto spersonalizzazione, quasi come se fosse una perdita di identità. Se noi avessimo la possibilità di poter in un qualche modo mantenere all'interno della nostra compagnia questi attori, questi cantanti, certamente non solo eleveremmo il livello culturale di tutti noi, della città, ma avremo una compagnia realmente internazionale che potrebbe portare veramente in alto il nome di tutta la provincia di Caltanissetta. E allora vi aspettiamo mercoledì sera, giorno 30 luglio alle ore 21 in piazza Municipio. My Name is 1-3-3.